Sì, non ci scordiamo che comunque giocavamo contro una grande squadra che è una delle favoriettissime per andare in Serie A. È una buona prestazione di coraggio e di personalità perché comunque abbiamo giocato sempre la palla, difficilmente abbiamo buttato via appunto il pallone quando eravamo in possesso e soprattutto una bella reazione dopo lo svantaggio, ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato abbiamo preso un gol secondo me evitabile, però comunque ripeto siamo stati bravi soprattutto a crederci, a non disunirci, a continuare a giocare secondo quello che avevamo preparato in settimana insieme al mister. Ciao Nicolò, insomma un buon esordio per te, sei entrato bene, peccato per quell'infortunio dopo pochi giorni perché si vede che hai tanta voglia di dimostrare. Sì, 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 hai detto bene, peccato, probabilmente sono stato fregato da quello, ho troppa voglia di dimostrare, sono arrivato quella settimana, ero molto carico, avevo voglia insomma di mettermi in gioco, di dimostrare e diciamo che il mio percorso parte adesso con un paio di settimane di ritardo, mi dispiace tantissimo, però cercherò di recuperare insomma il tempo perso e di contribuire a quello che tutti ci auspichiamo poi alla fine del campionato. Ecco, il Pescara ha dei problemi lì davanti, soprattutto la mancanza di un centravanti vero che faccia determinati i movimenti, che sappia ripulire i palloni, tu hai avuto un impatto anche da questo punto di vista, ti aspetti ora di trovare un po' più di spazio essendo insomma ristabilito da un punto di vista fisico? Ma intanto spero di giorno dopo giorno acquisire la forma migliore che appunto queste due settimane di stop insomma mi hanno un po' rallentato, però poi niente, io mi metto a disposizione, ovviamente sono venuto con tanta voglia ma in punta di piedi nel senso che comunque sono a disposizione appunto del mister, di questo gruppo, di questa squadra e di chi mi ha dato fiducia, io devo solo insomma ripagare questa fiducia sul campo e chiaramente serve a me ma di conseguenza poi servirà a tutti. Ma che gruppo hai trovato? Ma ho trovato un gruppo che è difficile credere che insomma abbia queste difficoltà poi in campo perché comunque siamo tutti ragazzi, sembrano frasi fatte ma è veramente così, siamo ragazzi bravi, ragazzi in gamba, giocatori forti e c'è qualità e secondo me è solo un problema adesso chiaramente di ottimo stima che chiaramente la fiducia lo sappiamo viene giocando e viene facendo risultati che è un po' insomma quello che ultimamente ci è mancato però dobbiamo lavorare con fiducia, continuare e cercare di andare a fare anche imprese dove magari in situazioni normali basta anche una prestazione buona ora non ce lo possiamo permettere, da qua alla fine dobbiamo strappare punti a tutte le squadre con cui giochiamo Posto? Sì Nicolò ti faccio l'ultima Prego L'ultima Max Hai una grande esperienza tu Nicolò in questo campionato ma è possibile davvero raggiungere la salvezza perché i risultati di oggi insomma non vi hanno aiutato soprattutto la vettoria del Cosenza ma i play-out sono più distanti e anche la salvezza diretta credo meno I risultati non hanno aiutato ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e soprattutto guardare avanti fino a che la matematica non ci condanna il campionato di Serie B è talmente lungo e imprevedibile che può succedere veramente di tutto e noi siamo i primi che non dobbiamo perdere assolutamente speranza ma ci dobbiamo credere veramente fino alla fine anche quando tutto sembra compromesso ma ripeto è un campionato talmente lungo che può succedere di tutto quindi lavoriamo e ripeto dobbiamo andare a prendere punti contro ogni avversario che ci capita di fronte il sabato o anche il martedì